Oggi parleremo della battaglia di Agnadello o anche detta la battaglia di Ghiradadda, Geradadda. Praticamente si svolse nel fiume Adda, nei confini del fiume Adda, in piena Lombardia, fra i francesi e quasi tutte le potenze europee e tutti contro la Repubblica di Venezia. Praticamente c'era stata la Lega di Cambrai che era stata fatta appunto dai francesi con tutti gli altri staterelli italiani, più la Svizzera. Praticamente erano davvero tutti contro Venezia, contro solamente Venezia. Venezia che era all'apoggeo della sua potenza, Venezia che stava quasi arrivando a Milano, Venezia che aveva territori in Puglia, in Grecia, in Albania, in Dalmazia, aveva tutto il Veneto, tutto il Friuli, era diventata per secondo i francesi, era diventata troppo forte e anche secondo gli italiani, anche secondo i milanesi, anche secondo i genovesi, insomma erano davvero tutti contro di lei. Si preparano le due formazioni, si apparecchiano, si apprestano a questa battaglia, a questa guerra. Da una parte cosa fanno? I francesi cosa fanno? Mendano la loro gioventù migliore. Con l'esercito francese c'è il re addirittura, il re Luigi XII, ma c'è il Baiardo, c'è il Trivulzio, c'è il Pallavicino, ci sono i Deste, i San Severino di Napoli, ci sono davvero la migliore gioventù italiana e la migliore gioventù francese, i grandi condottieri. Dall'altra parte Venezia cosa può mettere sul piatto, su questa battaglia? Mette tutti gli uomini, i contadini praticamente, delle sue possedimenti, quindi vengono dalla Grecia, vengono dall'Albania, vengono dalla Puglia, vengono da Rimini, vengono ovviamente da Venezia, dal Friuli, da Padova, dalla Slovenia, c'è tutta questa massa enorme di contadini che viene per formare il grosso, ma non solo, ci sono anche i mercenari. Venezia è molto ricca, quindi può comprare moltissimi mercenari, e la battaglia è abbastanza tosta, si preannuncia a essere abbastanza tosta. Però cosa succedeva per Venezia ai tempi? Venezia non dava mai tutto il suo esercito a un condottiero, ma storicamente dava sempre l'esercito a due condottieri, un po' come facevano anche i romani con i consoli. Questi due condottieri, per questa occasione, sono Niccolò Orsini, detto il Pitignano, e lo chiameremo adesso il Pitignano, e Bartolomeo Dalviano, che più che altro è un mercenario che è passato da poco al servizio di Venezia. Quindi sono due personalità diverse. Il Pitignano è una personalità politica, militare, e il Dalviano invece, ne parliamo adesso, è davvero un condottiero. Quindi il Pitignano cosa fa? Il Pitignano è una persona un po' più temporaggiatrice, è una persona più politica, sa che anche le guerre si possono risolvere con la parola, con la politica, con la diplomazia, quindi tende a non strafare, tende a vedere un attimo come è la situazione, tende a essere un po' più prudente. Questa cosa al Bartolomeo Dalviano, che è il suo co-condottiero, non piace, perché il Dalviano invece è una persona abbastanza crudele, è un uomo non amato, ma temuto dai militari, dai suoi uomini, è completamente temuto, però c'è da dire che è un uomo temerario, è un uomo a cui piace la guerra, è un uomo forte sotto quel punto di vista. Quindi bene o male i militari lo vedono, lo pensano e lo tengono come il loro capo. Si prepara un po' la guerra. Luigi XII, la battaglia è più che altro, Luigi XII, convintissimo di vincerla, anche perché ha una cosa che i veneziani non hanno, ha praticamente dei cannoni nuovi, molto pesanti, molto forti, ha la cavalleria pesante, ha tantissimi uomini d'armi venuti da tutta Italia con i loro uomini, è più forte. La lega di Cambreo, la lega francese, o l'esercito francese, è più forte di quello veneziano. Per noi i veneziani sono tanti anche loro, quindi, ripeto, comincia ad essere una situazione abbastanza, potrebbe essere una situazione che si potrà a lungo, ed è questo che vuole il Senato, perché comunque, da parte del Senato, una guerra forte, una guerra che può arrivare fino a Mestra, che oggi a Venezia distruggerebbe completamente la Repubblica di Venezia, e questo loro non lo vogliono. Cosa fanno? Prendono un provveditore, che sarebbe un capo politico, ed è Andrea Gritti, della famiglia dei Gritti, e lo mettono, diciamo, in mezzo ai due, a Bortolomeo Dalviano, che vuole combattere, e al Pitignano, che invece, molto più politico, vuole resistere, vuole temporeggiare. E questo Gritti deve mandare i messaggi, praticamente deve essere la voce del Senato veneziano. Il Senato veneziano dice temporeggiate, signori, non andate in testa a testa, perché la paura è che possiamo perdere completamente tutto l'esercito. Però il Bortolomeo Dalviano non ci sente da quell'orecchio, lui è un combattente. Che succede? Che comunque, dall'altra parte, i francesi dicono oh, siamo arrivati qui al fiume D'Adda, passiamolo. C'è Treviglio, la città di Treviglio, che vede tutto questo esercito, questi cannoni, e dice no, fermi tutti, qua, noi ci arrendiamo subito. Perché? Perché altrimenti sarebbe stata saccheggiata. E quindi si arrendono. Si arrendono e Luigi XII, i francesi lasciano una buona, un buon contingente, almeno mille fanti là dentro. Quindi sono tanti, ma ovviamente non tantissimi. A un certo punto dico, andiamo verso il sud, andiamo verso Cassano D'Adda. Questa cosa i veneziani di Treviglio non piace per niente, hanno sentore che il grosso dell'esercito sta andando giù, e quindi mandano Bartolomeo Dalviano, dicono vatti a riprendere il Treviglio, figurarsi, quello va immediatamente, assedia per poche ore praticamente, i francesi scappano da dentro Treviglio, scappano via perché sono pochi contro tutto l'esercito, contro parte dell'esercito veneziano, Bartolomeo Dalviano dà l'ordine secco, saccheggio. Cioè lui dice solo una parola, saccheggiate tutto quello che c'è da saccheggiare. Ora, il suo esercito era composto da mercenari, ma anche da questi contadini. I contadini non cercavano altro che poter trovare un po' di fortuna, qualche gioiello, oro, proprio per cambiare la loro condizione. Oltretutto erano già in perdita perché non stavano lavorando la loro terra. Comunque sia, ormai la guerra inizia, questa battaglia inizia. inizia è l'ordine di andare un po' a contrastare faccia a faccia i francesi, ma di non prendere azione. Cioè significa stategli davanti, ma non troppo vicine. Nel francese, nel tempo, i francesi avevano preso Cassano d'Adda, facilmente, perché l'esercito francese è molto forte, quindi qualunque cittadina si sottomotteva. Bartolomeo Dalviano, si avvicina, va veramente veloce verso i francesi e va con una formazione precisa, lui in mezzo, a sinistra, a destra c'ha Bernardino Fortebraccio e a sinistra c'ha Pio da Carpi, questo Pio che veniva da Carpi e che dopo sarà il traditore. Praticamente arriva, vanno davvero velocemente verso l'esercito francese, ma gli arriva di nuovo l'ordine, ragazzi, fermi, non dovete contrastarli, quelli sono più forti. E in effetti Bartolomeo diceva va bene, va bene, se questo è l'ordine, sono loro che comandano, va bene. Nel frattempo, c'era stato uno strano movimento dell'esercito francese che voleva un po' risalire verso nord, ma andando verso est, è un movimento un po' strano, succede un incontro, si chiamano battaglie di incontro, quando i due eserciti si incontrano senza volerlo. Cioè, nel senso, non si stavano veramente cercando, però si ritrovano allo stesso punto. Ovviamente è una scintilla, sono due eserciti ostili, si danno battaglia. Succede appunto che la testa dell'esercito francese va a finire nella coda dell'esercito veneziano. Questi, appena vedono questi qua, e al comando della testa dell'esercito francese c'è Trivulzio, Trivulzio dice immediatamente ai cannoni sparate, sparate a tutta forza, sparate, 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 perché crede di trovare il grosso dell'esercito veneziano, ma è solo la coda dell'esercito veneziano. Questi veneziani che sono tutti contadini, non sono uomini d'arme, spaventati da questi cannoni si buttano nelle secche di un fiume e fanno bene perché là questo fiume diventa un pantano e la cavalleria francese non si avvicina perché sarebbe massacrata, perché i cavalli si fermerebbero e questi sarebbero massacrati. Praticamente c'è una situazione un po' di stallo, però quelli continuano a cannoneggiare. Allora cosa succede? Questi contadini che già c'era anche non solo la coda dell'esercito ma era arrivato Bartolomeo Alviano i contadini spaventati dai cannoni che per loro era una cosa abbastanza nuova cosa fanno? Prendono il loro hanno di tutto, hanno spade, hanno mazze, hanno cose rudimentali, armi rudimentali l'unica cosa che gli viene in mente è di attaccare e attaccano i francesi. I francesi non se aspettavano che questi attaccassero ma non erano uomini d'arme erano così un'orda di gente che attacca i francesi sono in difficoltà Bartolomeo Dalviano che è un condottiero si rende conto di questa situazione e chiama il pitignano e gli dice al pitignano attacchiamo tutti e due il pitignano che non è stupido dice attenzione tu stai attaccando ma c'è tanto esercito francese dietro quindi io seguo l'ordine di Venezia e sarà la sua salvezza e ve lo spiegherò dopo Bartolomeo Dalviano non ci vede più ormai è pure arrabbiato con pitignano cosa fa vede un po' lontanamente vede il re di Francia dice io me lo vado a prendere io me lo vado a prendere ed entra entra con i suoi cavalieri dentro lo schieramento dei francesi i francesi si ritrovano un po' così non solo l'orda strana che gli sono trovata davanti ma anche il Bartolomeo Dalviano con i suoi cavalieri che si avvicinano al re quindi dicono al re dietro dietro indiettereggiano fanno una specie di quadrato sul re è un altro ordine secco mandate via i cannoni perché altrimenti il Bartolomeo Dalviano avrebbe preso i cannoni per sé e sarebbe stato davvero uno smacco oltretutto pericolosissimo quindi questi cannoni vanno indietro Bartolomeo Dalviano chiama i suoi cannoni piccoli cannoni che aveva però c'erano stati questi contadini che avevano in mano questi cannoni erano scappati perché spaventati da questa lotta che cominciava a essere cruente c'erano in mezzo anche gli svizzeri gli svizzeri facevano dei quadrati ti mettevano dentro i quadrati e incominciavano con delle lanci abbastanza lunghe a serrarti le gambe le mani il corpo praticamente quindi si vedevano volare pezzi di arti i contadini non erano abituati e incominciano a scappare però chi non doveva scappare che invece scappò fu Pio da Carpi Pio da Carpi incomprensibilmente scappa sfugge da un primo attacco anche timido da parte dei francesi sull'ala sinistra sfugge quindi i francesi appena vedono quest'ala sinistra che è libera e possono prendere Bartolomeo Dalviano dal fianco lo fanno entrano con la cavalleria pesante da là e lo prendono dal fianco lui si volta indietro non vede più gran parte di quei contadini che l'avevano seguito perché stanno scappando tutti la dice vabbè ormai perso per perso e incomincia a guerreggiare come può viene preso all'occhio poi viene gli arriva un colpo di lancia all'occhio lui cade e viene viene catturato viene catturato e viene tenuto per quattro anni dopo verrà tenuto per quattro anni come prigioniero ma dopo quei quattro anni Venezia diventerà alleata della Francia e lui ritornerà e verrà interrogato dal senato ma questo verrà dopo nel frattempo cosa succede che ormai i francesi capiscono che hanno la vittoria in mano perché più da carpi gli ha tolto la protezione sinistra e quindi erano erano finiti e c'è un scappa scappa qui e lì e qui e là e cosa succede che i francesi si raggruppano Pitignano potrebbe ancora perché ha buona parte anche lui dell'esercito potrebbe andare incontro però siccome non è stupido dall'inizio non è stato stupido in questa guerra lui sa conosce i suoi uomini e nei suoi uomini ci sono molti veneti friuleani veneziani c'è gente che comunque sa che comunque un domani deve combattere se questi avanzano dice andiamo verso Venezia andiamo a difenderci teniamo un esercito conserviamo l'esercito perché questo è quello che deve fare conserviamo l'esercito ovviamente andremo a perdere la Lombardia e gran parte delle nostre terre però c'è Venezia da difendere e io voglio un esercito questo è il messaggio che manda Venezia al Senato il Senato spaventato da questa situazione non si aspettava che Pio da Carpi potesse tradire e aveva tradito adesso vi spiego il perché gli dice a Pitignano ritorna ritorna però che succede lui ritorna quasi correndo verso Venezia ma nessuna cittadina lo aiuta con alimenti o facendogli passare le strade più velocemente diciamo o indicandogli i sentieri migliori niente c'è un silenzio assoluto perché tutti stanno un po' a vedere com'è la situazione cioè com'è la situazione sta vincendo la Francia è inutile che io ti do aiuto se Venezia invece rimane forte beh quindi tutti si mettono quasi neutrali però al Pitignano non piace ma il Pitignano è veramente intelligente capisce questa situazione dice sentite avviciniamoci più che possiamo a Venezia infatti si ferma a Mestre praticamente Mestre è Venezia si ferma a Mestre perché lì è casa sua lì praticamente è Venezia aspettano l'arrivo dell'esercito francese ma l'esercito francese non arriva l'esercito francese interessava liberare la Lombardia e quello l'aveva fatto perché Venezia perde tanto territorio però non straperde rimane una potenza Luigi XII è tranquillo dice vabbè io questa guerra questa battaglia me la sono vinta c'ho a posto Milano a posto Bergamo a posto Brescia mi va bene così e quindi si ritorna ritorna e uno dei borghi uno delle cittadine incontra Pio da Carpi e lo fa suo vassallo praticamente gli dà una gli dà una contea e questa fu la prova per i veneziani la prova la prova del tradimento di Pio da Carpi la sua famiglia fu considerata sempre dai veneziani fino a 100-200 anni dopo come la famiglia dei traditori per loro questa battaglia di Agnanello fu persa solamente per questo tradimento di Pio da Carpi e magari fu anche vero perché Bartodomeo d'Alviana aveva fatto tanto casino e i contadini spaventati avevano fatto tanto casino che stavano arrivando quasi a prenderlo il re di Francia solo che quell'apertura ovviamente ti si apre una battaglia ti si apre un fronte gli altri ti arrivano come niente praticamente quelli che stavano combattendo già contro gli svizzeri con queste lance lunghe che ti tagliavano gli arti ti tagliavano anche la testa già era difficile se ti arrivano anche i cavalieri della Francia con i cavalli pesantissimi le armature pesantissime dall'altro lato e ti sparano le cannonate ovviamente Bartolomeo d'Alviano non poteva fare niente ci fu un massacro una carneficina dei suoi uomini e dei contadini che erano là che stavano arrivando a toccare il re se Pio da Carpi avesse tenuto il fianco destro probabilmente Bartolomeo d'Alviano arrivava a uccidere a prendere il re francese e credo che la storia d'Italia proprio la storia d'Italia sarebbe stata completamente diversa quindi io Pio da Carpi lo penso penso che sia stata una figura molto importante della storia d'Italia e di certo non una figura di quelle belle detto questo ragazzi questa era la battaglia di di Agnanello o anche la battaglia di Gerardad come chiamata spero che vi sia piaciuta l'ho fatta vedere così come l'hanno vista i contemporanei e l'hanno scritto un po' i contemporanei in questi 10 15 20 minuti che siamo stati insieme iscrivetevi mettetevi mi piace se vi è piaciuto il video se vi piacciono questi video e un po' di pillole storiche così di conoscere piano piano la nostra storia che è una bellissima storia la storia d'Italia è una storia fatta di tanto sangue ma ovviamente la storia degli uomini è fatta così ci divertiremo insieme andando a vedere e conoscere cosa hanno fatto i nostri avi nel passato iscrivetevi mettete mi piace e state con noi ciao a tutti ragazzi ciao ciao